5, 4, 3, 2, 1, vai, sinistra 4, dosso in destra 3 meno, intornante sinistro 50, destra 3 giratieni, 3 giratieni, intornante destro in sinistra 2, vai, vai, 2 gira, 50, destra 3, in sinistra 4, 3, in sinistra 4, e destra 2, 2, in sinistra 2 per destra 2 meno, gira, 2 meno gira, per tornante sinistro per tornante sinistro, 50 destri, ritardo a sinistra 2, gira, 50, destra 3 meno, gira sì il caro di dove sta sganzando al cinturo, 50, destra 4, 4, in sinistra 4 sudosso e destra 5, alla casa sinistra 4 più, 2 tempi, e molta attenzione, destra 3 sudosso sporco vai a piano, no, 50, destra 3 più, intornante sinistro per destra 3, 3, 50, tornante destro, apre lungo, tornante destro, prelungo in sinistra 3 più lunga, 3 più lunga la sinistra, e destra 4 diventa tornante sinistro destra 5, in destra 2 più un sì, 2 più sì, 50 destri, sinistra 4, due tempi all'Enel, diventa 3 all'Enel, in destra 4 sudosso, per sinistra 3, e tra qua, 50, destra 4 e 300 destra 6, in sinistra 6, e ai cartelli, attenzione, destra 3 più, 3 più, 3 più eh 50, sinistra 6, corta, 50, sinistra 5 lunga, 100, attenzione al triangolo, destra 5, in ritardo a sinistra 3, 5, ritardo a sinistra 3, vai vai, bravo, 50 sinistri, sinistra 5 piena, 5 piena a sinistra, 50, tornante destro meno, bravo amico, 100 sinistri, destra 5, e 50 ritardo a destra 5, ritardo a destra 5 questa, e 50 albiri destra 3, 3 meno, albiri 3 meno, 50, destra 3 più, diventa tornante sinistro, diventa tornante sinistro, 50, dosso frena, per ritardo a sinistra 3 lunga, occhio, freno prima del dosso eh, per tornante destro, destro, destra 6, 100, attenzione sinistra 3 meno, inversione destra 1, leva, falla bene eh, prima, su 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 su, vai 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 vai, destra 3 più, e sinistra 3, e sinistra 3 sporca, 3 sporca, 50, ritardo a destra 4 lunga, 4 lunga, per sinistra 5, e destra 4 meno, tieni, destra 4 meno, tieni, in sinistro 3 occhio, 3 occhio questa, per destra 4 corta, per destra 3 più, apre, 3 più apre, per ritardo a destra 3, e sinistra 2, destra 2 meno, gira, 2 meno, gira, 50, alle piante destra 4, in ritardo a moto, sinistra 2, sporco, occhio che sporco, e destra 4, 50, alla pianta ritardo a destra 2, e 2 là in fondo, apre 5, 50, destra 4, 50, destra 4, per sinistra 3, 3 in sinistra, e destra 3, in sinistra 2, sporco, 2 sporco, e destra 3, in sinistra 3, 2 tempi in secondo, no, e destra 3 diventa 2, occhio che diventa 2, in destra 4, 4 in destra, in ritardo a moto, sinistra 3, sporco, no, per destra 2, in sinistra 2, in sinistra 2, in sinistra 4, corta, e bidone in ritardo a destra 2, è 2 questo ritardalo, sinistra 4 sudosso, e 50, destra in sinistra 3, e 3 in sinistra, ritardo a destra 3, meno, per tornante sinistra, in ritardo a destra 3, no, 3 no, 50, sinistra 4, in destra 4, sinistra 5, in destra 5 diventa 4, occhio a questa, sinistra diventa tornante destro, occhio che c'è tornante qua, occhio che sono molto sporchi questi, sinistra 4, per tornante sinistro meno, sporco, occhio che è sporco, 50, destri, vai 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 vai, sinistra 4, in destra 4, per tornante destro meno, per tornante destro meno, 50, sinistra 4, al muro chiude, al muro chiude, in destra 4, per sinistra 5, in destra 4, 50, sinistra 5, in frena a destra 5, frena a destra 5, in sinistra 4, 50 tra le case, ritardo a sinistra 2, apre 5, diventa 4 le piante, e 4 le piante, e destra 4 no, in sinistra 4 corta, 50 destri, sinistra, destra 5, e 50, destra 4 lunga, 4 lunga, occhio, Dio bai sta prova qua, non lo so, perché? La mast e gommia ha visto?